Una misura storica che consentirà di aprire una nuova pagina del Mezzogiorno al Sud. Nei prossimi anni ci sarà la tassazione più conveniente ed attrattiva d'Europa per l'apertura di nuove attività economiche a condizione che le imprese mantengano per dieci anni gli stabilimenti e livelli occupazionali nelle aree ZES del Mezzogiorno d'Italia dall'avvio dell'investimento. Commenta con entusiasmo le misure per la crescita economica e il rilancio del Sud il parlamentare salernitano del PD Piero De Luca che stamani in una conferenza stampa ha illustrato gli emendamenti a sua firma recentemente approvati su taglio Ires in aree ZES e rinegoziazione dei mutui MEF. All'incontro anche Carlo Marino presidente dell'Anci Campania, Vincenzo Napoli sindaco di Salerno e Michele Estrianese presidente della provincia di Salerno. Gli emendamenti approvati e proposti dall'onorevole De Luca riguardano il taglio dell'Ires, l'imposta sul reddito delle società nelle aree ZES e per gli enti locali e le regioni la rinegoziazione dei mutui per ridurre gli oneri finanziari sulle rate. Misure di grande impatto per lo sviluppo economico e l'occupazione non solo del nostro territorio ma di tutto il Sud e di conseguenza di tutto il Paese, così ha rimarcato il presidente Estrianese. Grazie, come ho ricordato prima, a tutte le forze politiche, innanzitutto il Partito Democratico e il ministro Gualtieri, il presidente del Consiglio per aver sostenuto questa norma che tra poche ore entrerà in vigore dopo l'approvazione definitiva al Senato. È la norma della legge De Luca, possiamo dirla così, sulle zone economiche speciali che introdurrà una misura storica, rivoluzionaria e consentirà di aprire una fase nuova nel mezzogiorno perché al Sud nei prossimi anni vi sarà la tassazione più conveniente e attrattiva d'Europa per l'apertura di nuove attività economiche a condizione che le imprese mantengano per dieci anni lo stabilimento nelle aree ZES del mezzogiorno d'Italia e soprattutto mantengono i livelli occupazionali per i successivi dieci anni dall'avvio dell'investimento. Quindi da questo punto di vista è una misura davvero rivoluzionaria perché punta al rilancio, alla crescita, alla ripartenza del mezzogiorno basandosi sugli investimenti e sull'occupazione, non più solo sull'assistenza, sui sussidi fini a se stessi, ma su un incentivo forte e straordinario alla creazione di nuove attività economiche che creano nuovi posti di lavoro. Questo è il nostro obiettivo e questa è la visione del mezzogiorno. Ovviamente questo lavoro andrà accompagnato da un forte rilancio della dotazione infrastrutturale del mezzogiorno e della semplificazione amministrativa su cui pure stiamo lavorando, dotazione infrastrutturale che proveremo a rafforzare anche e soprattutto con le risorse, l'utilizzo virtuoso per il mezzogiorno e nel mezzogiorno, delle risorse europee del recovery fund. Quindi io insieme a tanti altri parlamentari del mezzogiorno stiamo lavorando e facendo un lavoro forte col Partito Democratico, ma in modo trasversale in Parlamento affinché il piano nazionale di ripresa e di resilienza abbia e ponga particolare attenzione al mezzogiorno d'Italia, a cui dovranno essere destinate più del 34% delle risorse. Insomma sono davvero contento, orgoglioso e soddisfatto perché come ripetiamo sempre non è una frase fatta, se non riparte il sud non riparte il paese. Il sud del mezzogiorno non sarà più la cenerentola d'Italia e d'Europa e davvero possiamo guardare con maggiore fiducia e speranza al futuro anche grazie a questa norma che entrerà in vigore nel 2021.